Il prodo di Ceperis ci viene a gala alla qualità intervista con il gran gol di Pulitano tra i migliori in campo. L'Inter ritorna in zona Champions e si lancia con il bel poker di Vittorio in tasca e diversi uomini riposati. Verso la decisiva sfida contro il Pace V e in Dover di Mercoledì, balcare il Phillips Stadium potrebbe essere determinante per passare il turno nel Girona della Morte. L'Inter è esattamente quello che tutto il popolo di Razzurro attendeva da quest'estate. 12 minuti di intercambio, riccari, che fosse in panchina e l'Altaro che non lo fa certo più piangere. 90 minuti di grinta, l'Italia è tutto quello che è stato il suo vero esordio a San Siro. Se scudiamo i suoi 60 secondi di passarella contro il Torino e il buio via, più per l'Altaro non è stato così semplice che il tempo di scendere nell'aereo Ma rimuovi a caso? Oh no!